Ho avuto il piacere di ospitare qui al Parlamento Europeo la proiezione del docufilm Ero Malerba. È la storia di Giuseppe Grassonelli, un uomo, un siciliano, che paga in carcere i suoi errori gravissimi commessi negli anni 80, quando ancora ventenne vede la sua famiglia assassinata in un agguato di mafia. Grassonelli risponde alla violenza con la violenza, sterminando i mandanti di quei delitti. Arrestato e condannato all'ergastolo, Giuseppe Grassonelli inizia in prigione il suo percorso di riabilitazione. Una strada non facile, che lo porta alla laurea in filosofia e alla riscoperta dei valori di onestà, libertà e legalità, di cui oggi capisce appieno il significato. Ero Malerba è una storia tutta siciliana, diretta dal regista siciliano Tony Trupia, ispirato al libro Malerba del giornalista siciliano Carmelo Sardo, scritto proprio con Grassonelli. La proiezione del film ha aperto il dibattito su temi importanti, centrali in Sicilia, anche in Sicilia. Un messaggio antimafia è quello che arriva da chi ha buttato via la sua vita per consumare una vendetta e nella privazione del bene più prezioso, la libertà, riscopre l'importanza dell'onestà e della fiducia nelle istituzioni.